La grande scelta è che non sarei impegnati su tre fronti, ovviamente vorrei vincere tutti e tre i trofei, ma come inizio mi basterebbe giocare ad alti livelli in Bundesliga, passare la fase al girone di Champions League e spingerci il più avanti possibile anche in Coppa, in Coppa di Germania. Sono ambituzi, ma sono realisti, quindi vediamo da scelta in scelta. Sì, perché sono stati in scelta in scelta, sono stati in scelta in scelta. Grazie a tutti.